Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Marco Gargini. Iniziamo dall'A1 dove verso Bologna è stato riaperto il tratto tra Incisa-Reggello e Firenze-Sud. Dopo un incidente avvenuto al km 312 e 600, permangono 12 km di coda tra Valdarno e Firenze-Sud. Sempre in A1 ma in direzione Roma, rallentamenti per traffico intenso tra Firenze-Sud e Incisa-Reggello. Spostandoci in Fipili è entrata chiusa per lavori all'Astra Signa in direzione Livorno. Incidente al km 72 e 700 tra Pisa-Aroporto e Pisa-Nord-Est verso Firenze. Sul raccordo Bettolle-Perugia, fino al 20 novembre è chiuso lo svincolo di Cortona in ingresso e in uscita per chi viaggia verso Perugia. Muoversi in Toscana Info è un servizio e collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!